Oroscopo del giorno, sabato 23 aprile 2022 Ariete Amore, dopo alcuni giorni piuttosto nervosi, durante questo sabato finalmente potrebbe tornare un po' il sereno. Per questa giornata infatti vi sentirete più tranquilli e andrà meglio nei rapporti. Lavoro, la luna favorevole potrebbe spingervi a credere ancora di più nei vostri obiettivi, potrebbe arrivare una buona novità. Toro, amore, forse non avrete la fortuna dei giorni scorsi, ma questa giornata di aprile sarà comunque abbastanza buona. Per i single e per gli impegnati sarà un sabato piuttosto piacevole. Lavoro, mercurio sarà ancora in una congiunzione che potrebbe permettervi di ottenere delle buone occasioni, dei buoni risultati e qualche novità. Gemelli Amore, probabilmente non sarà un sabato troppo tranquillo perché qualcosa con il partner sembra non andare ancora a meraviglia. Anche i single potrebbero sentirsi leggermente nervosi con una persona che stanno conoscendo. Lavoro, il weekend professionale non andrà esattamente come vorreste perché la stanchezza potrebbe diventare fin troppa. Cancro, amore, la luna da oggi non sarà più in opposizione e quindi questa potrebbe rivelarsi una giornata veramente buona, sicuramente migliore rispetto alle precedenti. Lavoro, molto meglio anche sul posto di lavoro. Cercate di impegnarvi al massimo per ottenere delle situazioni sempre più interessanti. Leone Amore, la luna sarà in opposizione e infatti questo potrebbe essere un sabato particolarmente nervoso per l'amore e rapporti in generale. Con il partner o una nuova conoscenza potrebbero esserci alcuni problemi da affrontare. Lavoro, non andrà troppo diversamente per il lavoro, quindi cercate di non innervosirvi o complicare troppo alcuni dei compiti da portare a termine. Vergine, amore, il sabato del mese sarà ancora una volta negativo per via della posizione per niente buona del pianeta dell'amore. Cercate di stare un po' più sereni, ormai la nuova settimana sta arrivando con qualche piccolo recupero. Lavoro, con queste stelle tutte in opposizione non sarà un giorno favorevole neanche per il lavoro. Bilancia, amore, la luna di questa giornata sarà abbastanza buona per voi e potrebbe aiutarvi su tutti i fronti. Sarà dunque il caso di godersi le emozioni che arriveranno durante questo sabato. Lavoro, e la luna potrebbe favorirvi soprattutto per il vostro lavoro dove potrebbero arrivare delle buone nuove davvero niente male. Scolpione, amore, questo sarà un sabato del mese particolarmente nervoso. Infatti con il vostro partner o una persona vicina potrebbero nascere incomprensioni e brutte discussioni. Niente di buono neanche per i single. Lavoro, dovrete cercare di contenere questa agitazione almeno sul lavoro per poter ottenere un qualcosa in più e fare filare tutto liscio. Sagittario, amore, venere sarà ancora sfavorevole e purtroppo da oggi le cose potrebbero andare ancora peggio rispetto agli scorsi giorni. abbiate pazienza ed evitate le polemiche o altre discussioni. Lavoro, marte vi farà sentire abbastanza stanchi sul posto di lavoro e questo generale nervosismo di certo non potrà aiutarvi troppo. Capricorno, amore, niente male questo sabato che ci porta verso la fine del mese. Infatti per voi venere sarà in buona posizione dunque molto difficilmente avrete problemi in coppia o in una conoscenza nuova. Lavoro, potrebbero arrivare dei colpi di fortuna sul posto di lavoro. Impegnatevi perché potrebbe andare davvero molto bene. Acquario, amore, questa giornata sarà veramente bellissima per voi e per tutte le persone che avete al vostro fianco grazie a venere. Oggi infatti le emozioni saranno al top e non mancherà un grande romanticismo da poter sfruttare e vivere al massimo. Lavoro, giornata tranquilla per il lavoro sarete più presi dalle questioni di cuore. Pesci, amore, possibili belle emozioni sia perché è già impegnato in una relazione sentimentale che perché ancora non lo è. Un sabato di nuovi incontri interessanti che i single potrebbero sfruttare. Lavoro, marte e giove continueranno a portarvi delle buone nuove e magari una occasione di lavoro tutta nuova. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.